La tradizione incontra l'innovazione. Nel cuore della città meneghina, al Grand Hotel de Milan di Via Manzoni 26, riflettori puntati sulla migliore comunicazione interattiva e digitale. Le storiche ambientazioni del prestigioso albergo hanno fatto da cornici ai lavori della giuria della seconda edizione degli NC Digital Awards. Molti consensi da parte del mondo della comunicazione italiana al premio ideato da ADC Group, che ha registrato iscrizioni in crescita del 16% rispetto al debutto dello scorso anno. 82 i progetti in corso per gli ambiti riconoscimenti passati al vaglio dai giurati, che dopo una prima fase di voto online per stabilire i premi di tipologia, si sono riuniti in sessione plenaria per giudicare le 29 Digital Integrated Campaign, divise per categorie merceologiche, tra cui è stata scelta la migliore campagna digitale integrata Made in Italy. Una giornata impegnativa, aperta dal benvenuto del presidente di ADC Group, Salvatore Sagone, che ha visto i più affermati professionisti della communication industry, capitanati dal presidente di giuria Nicola Novellone, Web & Digital Director Sky Italia, confrontarsi e dibattere sullo stato dell'arte della comunicazione digitale del nostro paese, egregiamente rappresentata dai lavori in concorso che hanno generato spesso pareri discordanti in fase di valutazione, a causa della difficile standardizzazione nella quantificazione dei risultati generati, soprattutto dalle operazioni di social networking, una componente sempre più importante nelle campagne digitali integrate. Ad aiutare il lavoro della giuria, la presentazione live dei progetti in concorso da parte delle agenzie che li hanno firmati, format già sperimentato con successo nella precedente edizione del premio e fondamentale integrazione di una presentazione, quella classica, non sempre esaustiva e meno rappresentativa della reale efficacia della campagna. Tutti i vincitori della seconda edizione degli NC Digital Awards verranno svelati il 2 ottobre durante la cerimonia di premiazione all'interno degli Internet Days. Ed ora la parola al presidente di giuria, Nicola Novellone. Giornata veramente molto interessante, giuria fantastica, perché si è creato subito un feeling di discussione molto molto buono. Devo dire che la qualità delle idee, delle idee che contano, c'è stata. Io penso che le prime quattro campagne sono delle idee che possono avere un riscontro internazionale, che hanno avuto riscontro internazionale, quindi grande qualità. Abbiamo però ancora visto troppo channel fulfillment, che vuol dire la stessa idea applicata su tutti i canali senza una troppa logica, però in compenso veramente molto molto positivo. Un consiglio per le agenzie è imparate a vendere quello che voi fate, perché troppe volte raccontate quello che è successo senza raccontare veramente qual è stato il vero beneficio o del cliente o dei consumatori che hanno usufruito di queste campagne, di queste attività di comunicazione. I video sono troppo esplicativi, poco emotivi, ma soprattutto lo vedete anche dalle campagne che hanno vinto, sono campagne che sono state spiegate e raccontate in una maniera molto engaging. L'engagement nel racconto delle vostre campagne, molte volte non è ancora all'altezza di toccare il cuore e la mente di chi poi le deve giudicare. Sono veramente stato onorato e molto contento di aver presieduto questa giuria.